La cucina è un ingrediente assolutamente non presente. Cosa parlano i miei libri? Fondamentalmente sono storie vere, esclusivamente storie vere, perché penso che non ci sia bisogno della fantasia e dell'invenzione per scrivere un libro. Come dico sempre, basta guardarsi in giro per scoprire, per trovare delle storie sulle quali scrivere, le quali meritano di essere raccontate. Così è per il mio ultimo lavoro, che si chiama Se non sono gigli. Il titolo è preso da un testo di una famosa canzone di Fabrizio De Andrè, La città vecchia, una vecchissima canzone che però ho trovato attualissima. è che...